Dobbiamo collare noi, ce la dobbiamo fare e prendercelo a questa medaglia di bronzo. Sarebbe la cosa perfetta, sarebbe il capo lavoro olifico per quanto riguarda Marco Di Costanzo che ha partitole, sfinge, affonda la Gran Bretagna, affonda Stuart Hayes, scrive 1 e 9 e 9 nel libro degli emanimi mortali, nel libro della storia, nessuno, prima, finale, due, cento, siamo... Oggi abbiamo festeggiato il ritorno di Marco Di Costanzo dalle Olimpiade di Rio con la medaglia di bronzo. Per noi, per il nostro istituto è sempre un grande motivo di orgoglio vedere un nostro ex allievo che ha un successo nella vita, che sia lavorativa, che sia sportiva, è comunque per noi un grandissimo motivo di orgoglio e ringraziamo sempre Marco anche per i successi futuri quando ci vorrà venire a trovare. Ma è sempre bello venire qui perché questa è la mia scuola, comunque qui ci ho passato i miei anni e quindi è sempre un piacere tornare, poi è un evento che porta bene a me e spero anche io possa portare bene a loro come la vittoria del Mondiale dell'anno scorso e la bellissima medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio dei Ceneri. A Rio imbarca gli ultimi 50 metri e cosa hai pensato? Gli ultimi 50 metri era quando la Gran Bretagna finalmente aveva mollato già iniziava a crescere questo sapere di aver vinto questa medaglia e lì veramente posso dire appena arrivato ho urlato perché volevo eliminare tutte quelle tossine che avevo accumulato nei giorni prima perché cambiando barca pochi giorni prima di partire per Rio non è facile però abbiamo dimostrato di essere dei grandi campioni. Il telecronista ha detto dopo il conseguimento della medaglia che il tuo nome è stato scritto nel libro degli immortali. Che effetto ti fa? Eh allora già comunque essere entrati nell'Olimpo diciamo a far parte dell'Olimpo è una cosa importantissima che spero che tanti atleti possano vivere. Beh essere oggi ricordato comunque per una medaglia alle Olimpiadi fa piacere però mi dà anche diciamo la forza per continuare perché sono giovane e voglio fare ancora tanto. Ci vediamo allora tra quattro anni. Ci vediamo tra quattro anni. Grazie.